Buongiorno, Piero Pio Maria Adrioli, figlio spirituale di Padre Pio. Oggi è sabato 3 giugno 2023, è iniziato il mese di Gesù. Il mese di giugno sapete tutti che è il mese di Gesù, di Nostra Signora, mentre il maggio è il mese della Madonna. Bene, l'altro ieri, il primo giugno, abbiamo praticamente ricorso l'anniversario della morte di mio papà. Praticamente sono 27 anni che ci ha lasciato, ma sicuramente è sempre qui con noi. Mio papà è stato un grande uomo, pensate voi, è nato il 9 febbraio del 1917. Guardate a caso, un'altra data che ci riporta il messaggio di Fatima. E una cosa, diciamo, una coincidenza che non lo è sicuramente, anche il sacerdote di Bordighera Alta, Don Pio Mauro, pur essendo un po' più anziano, è nato il 9 febbraio, come mio papà. E questo sacerdote è morto il 9 febbraio, che è il sacerdote che mi ha confermato, sia in vita che in morte, che dopo la morte, che il padre Pio era Elia, che Luigi Gasperi era Giovanni, che il quaderno dell'amore era il libricino descritto nel decimo capitolo dell'Apocalisse. E venne appunto, dopo un anno che era morto, nel dormiveglia, a dirmi, mi ha confermato, facendogli delle domande, adesso che lei è di là, padre, chi era padre Pio? Era Elia. E chi era Luigi Gasperi? Era Giovanni. E lei chi era, padre? Sono un uomo che ha pregato tanto. Quindi questo sacerdote che in un primo momento era contrario a padre Pio, invece dopo padre Pio l'ha convertito ed è diventato uno dei suoi più grandi difensori. Ecco, oggi vi voglio leggere delle cose che ci riportano a quello che stiamo vivendo, perché noi stiamo vivendo la sesta epoca della Chiesa. Ma presto, appunto, la Chiesa di Giovanni prenderà il posto della Chiesa di Pietro. Ecco perché in questo momento c'è la confusione. Vedete? Padre Pio raccontò a Luigi Gasperi un giorno che duemila anni fa Paolo era diventato, San Paolo, chiaramente Saul, Paolo era diventato un apostolo di Gesù perché si era convertito e quindi incontrava anche gli apostoli e Paolo disse a Pietro, agli altri apostoli che bisognava portare l'amore perché Paolo era un altro apostolo dell'amore come Giovanni e non più la legge perché la legge era la maledizione perché l'amore riguarda un comandamento che ne riguarda tutti e dieci cioè il comandamento ama il tuo prossimo come te stesso vuol dire rispettare tutti e dieci comandamenti. Quindi ci fu una discussione molto come dire ci fu una discussione molto quasi si presero a botte diciamo gli apostoli perché Paolo voleva portare l'amore già all'epoca. Paolo fu cacciato questo lo ha raccontato Padre Pio a Luigi Gasperi praticamente di casa dove vivevano gli apostoli andarono a dormire il giorno dopo Pietro va da Paolo e gli dice Paolo hai ragione bisogna portare l'amore nel mondo ma non è questo il momento perché gli uomini non capirebbero ancora. Il momento era l'Apocalisse ecco perché Giovanni scrive la rivelazione che è il libro dell'Apocalisse che ci porta nell'era dell'amore. quindi Pietro va da Paolo e gli dice Paolo tu hai ragione ti chiedo scusa però questo non è il momento ecco perché la Chiesa per duemila anni ha portato la legge e adesso nella più grande confusione proprio perché ci sarà questo cambiamento dove il Signore instaurerà la Chiesa dell'amore che è la Chiesa di Giovanni. Vedete nel libro dell'Apocalisse di Don Dolindo che è sempre questo vedete l'Apocalisse di Don Dolindo ho ritrovato ecco ho ritrovato questo che io ho sottolineato in giallo il Signore dice ecco io vengo presto dice Gesù cioè dopo quella tribolazione io verrò vedete la tribolazione forse proprio quello che stiamo vivendo anche con la guerra e vedremo come appunto andrà a finire però sappiamo che poi il Signore verrà manifestando nella Chiesa l'opera mia e le mie misericordie verrò ridonando al mondo la vera pace la vera prosperità perciò rivolto al Vescove adesso a tutti i Vescovi e alla Chiesa soggiunge conserva quello che hai affinché nessuno prenda la tua corona perché la corona adesso andrà a Giovanni nel momento della terribile prova ogni pastore ogni sacerdote ogni fedele deve conservare la fede la speranza la carità la pazienza la fiducia in Dio affinché Satana nel mondo sconvolto non gli rapisca la corona immortale che deve essere il premio finale della prova subita bene il Vescovo che sarà vincitore nella prova sarà come colonna nel Tempio di Dio perché sarà come il fondamento il sostegno della Chiesa rinovellata e avrà sulla sua fronte scritto il nome di Dio perché suo figlio adottivo il nome della città di Dio perché cittadino della celeste Gerusalemme della Chiesa militante che discende dal cielo come sposa del re d'amore tutta rinovellata dall'amore dalla Chiesa trionfante quando raggiungerà la gloria avrà inoltre scritto il nome nuovo del Redentore che si chiamerà re d'amore trionfante avendo trionfato nel mondo del mondo del peccato e dell'inferno Gesù Cristo annunzia così il trionfo del suo regno anche sulla terra l'unico vile che raccoglierà tutti gli uomini nell'amore di una nuova fraternità sotto l'unico pastore che è lui stesso rappresentato dal Pontefice dell'amore ed egli si manifesterà come santo per l'effusione di una nuova santità nella Chiesa quindi l'amore entrerà nella nuova Chiesa rinovellata e non ci sarà più la confusione che viviamo adesso adesso vi voglio leggere Padre Pio profeta dell'era dell'amore che trovate sempre al numero di Whatsapp potete richiedere al numero di Whatsapp del quaderno dell'amore vedete sul legno della croce Gesù Cristo figlio di Davide re donò al suo prediletto figlio Giovanni la corona di regalità già perduta da Adamo e ridata al padre a Davide re e al suo erede Gesù Giovanni figlio prediletto di Cristo erede di Davide re quando io dico che appunto Giovanni ha lo spirito di Davide e il Gaspari ha lo spirito di entrambi è re delegato da Cristo re a mantenere in vita sulla terra il potere della regalità di Davide risorto perché Davide anche nell'antico attestamento si parla del suo ritorno della sua riapparizione del suo spirito e il libricino descritto nell'ecimo capitolo dell'Apocalisse non sono altro che le parole dello Spirito Santo dettate dall'angelo a Giovanni se la regalità di Cristo Davide re risorto non fosse rimasta sulla terra nel cuore del prediletto Giovanni tutti gli uomini sarebbero caduti in piena schiavitù del regno animale della bestia la regalità di Giovanni ha il potere di dominare l'animalità dell'uomo entrate in Adamo e in Eva con lo spirito del serpente Giovanni è la voce del re Cristo di Davide risorto che può entrare nei cuori degli uomini per far udire loro la voce della verità che è la suprema autorità di Cristo di Davide re vedete le parole del quaderno dell'amore nei cuori e tutti quelli che mi hanno scritto dicono esattamente la stessa cosa che è la stessa cosa che è successa a me quando io ho letto per la prima volta il quaderno dell'amore vedete qui nel momento che mi fu scritto dal Don Pio Mauro che mi diede la properi aveva avuto il testamento di Padre Pio vedete allora qui racconto un sogno nel mio libro nei primi giorni di agosto feci un sogno che ricorderò per tutta la vita mi venne nel dormiveglia Padre Pio e come buon padre di famiglia quando un figlio si allontana da casa si raccomandava perché facessi le cose più opportune ad un certo punto del sogno lui scompare e mi ritrovo sotto casa dei miei nonni quando erano in vita con il parroco di Bordighera Alta che mi aspettava sapendo di aver parlato Padre Pio poco prima mi rivolgo al parroco dicendo padre dov'è Padre Pio e lui mi rispose è in camera di tuo nonno salì per le scale di quella vecchia e amata casa entrai nella camera di mio nonno e vidi Padre Pio sul letto che chiamandomi mi diceva perché non vieni a riposarti con me mi avvicinai a lui e nell'abbraccio mi svegliai naturalmente quel sogno nel dormiveglia mi lasciò un po' perplesso anche se mi aveva trasmesso tanta gioia continuavo in effetti a chiedermi ma se mi ha detto così vuol dire che mi porterà con lui infatti non raccontai a nessuno di quel sogno per paura di spaventare sia i miei genitori che i miei amici passarono solo due giorni e fu risolto il quesito infatti mi chiamò l'indomani Luigi Gaspari per telefono usando queste parole perché non vieni a riposarti un po' con me qui a Cesenatico allora compresi che Padre Pio si era raccomandato con me nel sogno perché mi aveva lasciato nelle mani di colui che veramente aveva avuto il suo testamento spirituale che poi non è altro che il quaderno dell'amore usando le sue stesse parole capì che nessuno se non Padre Pio poteva avergli fatto dire le stesse cose che il padre mi aveva detto in sogno nasce così il grande amore verso Luigi Gaspari vedete tutto si ricollega a questa cosa così importante e ora voglio anche farvi vedere un pezzettino del quaderno dove spiega che a volte il Signore non esaudisce le necessità o le grazie che alcune persone chiedono e ci dice anche il perché perché noi magari vediamo delle persone molto pie che sembrano pie ma alla fine non lo sono tanto perché loro vogliono che il Signore si pieghi a quello alla loro volontà e non alla volontà del Signore vedete qui dice chi si inchina a me chi mi supplica chi mi prega non è sempre colui che mi ama più spesso è colui che vuole fare inchinare me ai suoi voleri egoistici così avviene anche a voi che mi amate quelli sanno e sentono che per amore vostro non so dire di no perciò spesso chiedono a voi quello che non ottennero da me perché era ingiustizia e non lo meritavano ecco perché a volte vi accade di essere delusi da chi a voi ricorre con apparente amore niente spesso noi rimaniamo delusi no? perché ci raccontano eh ma non ho avuto eh di qua eh io a me non ha dato niente eh e perché non mi dà allora non esiste oppure non mi vuole bene vedete questi che io ho esaudito a volte li esaudisce per merito nostro ma non se lo meritavano questi che io ho esaudito solo per amore vostro credono di essere riusciti ad ingannarvi si sbagliano tentarono sì di ingannare voi per via di me ma io già conoscevo i loro programmi e ho previsto tutto quello che ho loro concesso è stato per impegnarli verso di voi che li avete amati vedete quando noi facciamo un'opera di bene poi queste persone spariscono invece di avere riconoscenza e attenzione perché il Signore non viene ingannato se ne ricorda vedete è stato per impegnarli verso di voi che li avete amati e voi a voi appartiene tutto quello che hanno ricevuto da me senza merito e solo per le vostre suppliche a me perché a volte a noi supplichiamo il Signore perché diano a queste persone che amiamo quello che loro hanno chiesto anche se non se lo meritano quei beni sono ancora miei e vostri quei beni che mi chiedeste per la loro gioia che io concessi saranno il fuoco che li brucia se mancheranno di riconoscenza a voi a me vedete perché alcuni dicono di quello che succede alluvioni terremoti disgrazie danno la colpa a Dio perché non è intervenuto no cari il Signore non manda maledizioni siamo noi che ce le mandiamo da soli perché se noi ci comportiamo male avremo del male se noi inquiniamo la terra prima o poi la terra si ribella se noi inquiniamo il mare prima o poi il mare si ribella quindi siamo noi che ci procuriamo i guai Dio non manda castighi Dio è misericordioso e mettiamocelo bene nella testa colpa di Dio per questo per questa no colpa nostra bene adesso volevo anche leggervi allora innanzitutto vi dico che appunto il quaderno dell'amore di vicino è scritto nel decimo capitolo dell'Apocalisse potete sempre trovarlo mandando un messaggio whatsapp scritto con richiesta scritta sia del quaderno dell'amore padre Pio profeta dell'era dell'amore padre Pio mi ha detto di Luigi Gaspari al comitato per Luigi Gaspari 371 3956034 con un whatsapp il mio libro lo potete richiedere al segno 0432575179 oppure online su amazzo o nelle librerie lo richiedete padre Pio il terzo segreto di Fatima di Piero Drioli Daniele Gallo Luca Serafini per quanto riguarda anche il libro il quadernetto di Luigi Gaspari il quaderno dell'amore voi potrete trovare anche su internet l'archivio di Luigi Gaspari al www.archiviogaspari.it mentre nel mio canale sulla community potete trovare le conferenze di Luigi Gaspari e poi ogni volta ne inseriremo ancora di nuove adesso per ultimo volevo farvi vedere sempre il libro Liana Maddaloni chiedilo a Gesù editore Chimeric dove racconta il suo incontro con Luigi Gaspari che era morto 4 anni prima vedete un incontro speciale scopriamo scopriamo a quel punto che questa non è per niente una ricerca sempre San Giovanni Rotondo è stracolma di pellegrini e se il service sono tutti pieni trovare un posto a sedere è quasi un miracolo io lo so bene i miracoli accadono troviamo finalmente un locale dove con qualche posto ancora libero con questo spirito comincia un'interminabile fila di banchi di self-service con tre bambini super affamati iperattivi finalmente le tre piccole birbe hanno scelto hanno deciso forse bassoi strapieni alla mano io e mio marito ci destreggiamo eronicamente eroicamente in una sala piena di gente per evitare da un lato che i bassoi si possano accidentalmente rovesciare ci rimane solo una cosa da fare ora è garantisco non è più semplice trovare un tavolo che abbia cinque posti liberi immobili al centro della sala controlliamo tavolo per tavolo e finalmente il mio sguardo incrocia quello di un uomo molto distinto seduto da solo ad un tavolo grande dove ci sono guarda caso proprio cinque posti liberi preoccupata di quella che potrà essere la reazione di quel signore che fino a qualche istante prima gustava il suo pranzo in santa pace all'arrivo di una famiglia tanto rumorosa mi avvicino al tavolo per domandare se fosse libero le mie paure di un'eventuale reazione dell'uomo sono svanite non appena i nostri sguardi si sono incrociati e proprio con un sorriso mi facendo di accomodarmi mentre su sguarda carezza amorevole ciascuno dei miei figli con grande spontaneità disarmante quest'uomo che fino ad un istante prima nemmeno sapevo almeno così pensavo della nostra esistenza nemmeno sapeva chiaramente della nostra esistenza comincia a parlare con noi e rivolgerci qualche domanda si rivolge innanzitutto a mio marito da dove viene che lavoro fai? da dove vieni gli da del tu a questa domanda mio marito di una risposta che mai mi sarei aspettata premetto che mio marito in quel periodo esercitava come legale in provincia di Benevento lavoro come bidello in una scuola media di Torino mi ha lasciata quanto meno stupita nonostante tutto per evitargli figuracce mi impongo di non lasciar trasparire alcuna emozione nel mio volto ma non mentre in me cerco una risposta un motivo o una bugia tanto grande dopo la risposta di mio marito l'uomo tace rimane in silenzio fino a quando dopo con tanta esistenza di Francesco Giuseppe è costretto ad alzarsi e rifare la fila ai banchi del search service per comprargli il tè a questo punto l'uomo solleva lo sguardo mi sorride e dice è vero quello che ha detto tuo marito che fare un'altra bugia no non me la sento la verità che brutta figura gli avrei fatto fare una verità velata che idea ed è così che sono riuscito a rispondere quello è un birbante non dimenticherò mai lo suo sguardo divenuto improvvisamente triste accompagnato da un lieve cenno del capo da una parola detta sottovoce appena accennata già poi sorridendo guarda i miei figli e indicandomi un cenno Pasquale mi domanda lui come si chiama Pasquale Pio rispondo e lui fa attenzione perché lui è come suo padre guarda quindi Francesco e chiede lui come si chiama si chiama Francesco come lo so come padre Pio infine volge lo sguardo verso Rodolfo e rivolgendomi a lui con un sorriso gli domanda il nome e dice tu hai dei problemini all'occhio non ti preoccupare a te penso io e un giorno mi rivedrai e mi riconoscerai vedete Giovanni che ritorna Giovanni Luigi Gaspari che ritorna perché un giorno questo ragazzo che adesso è un uomo Rodolfo un giorno lo riconoscerà e lo rivedrà perché tornerà con padre Pio che è Elia e l'altro e Luigi è Giovanni a quel punto lascia solo immaginare quale fosse il mio stato d'anime e quali quante domande mi frullassero per la testa mia madre due mesi prima di morire mi ha detto Piero ho sognato una casa a due piani c'eravamo tutti e due mesi dopo è morto ma con la casa a due piani è il cielo e la terra che saranno uniti e coloro che hanno perso i loro cari i loro figli i loro bambini ti riabbracceranno presto perché c'è la terra saranno uniti potremo vivere anche con loro ecco la grande gioia della nuova era chi è costui un folle o un santo pensa la estera ha parlato di problemini lo strabismo è assolutamente visibile mio figlio ha un occhio fisso e per questo a settembre ciò che ci hanno detto gli oculisti si parlerà di intervento poiché purtroppo nel vendaggio né occhiali hanno sortito l'esito desiderato ma la miopia quella come ha fatto a notarla mille domande mi affollano in mente ma non riesco a formularmene neanche una allora l'osservo vedo una persona distinta sui 75 anni ben vestita mi colpiscono il panciotto al piccolo ferma cravata che Luigi aveva sempre me ne ha regalato anche uno che io purtroppo ho perso il grande orologio il grande anello che porta l'anulare sinistro e decido di fissare quei particolari non devo dimenticarli forse un giorno potranno essere utili intanto lui l'uomo d'altri tempi è colui che ho sempre è colui si legge bene che ho sempre affettuosamente ricordato continua a parlare con me mi domanda mi domanda cosa faccio e comincio a parlare di botanica a un certo punto inizio a parlare di me rivelandomi ciò che avrei fatto in futuro rapita ascolto le sue parole ad un tratto mi sento dire ricorda d'ottobre per te sarà un mese importante non dimenticarlo mai sia questa frase che le parole rivolte a mio figlio Rodolfo inerenti alla sua guarigione sono state ripetute quel giorno per ben tre volte mi rivolge un'altra domanda prima che mio marito torni al tavolo come mai siete venuti a San Giovanni Rotondo e io nello spiegarmi che eravamo lì per far visita al nostro amico ricoverato d'urgenza nel locale ospedale raccolgo tutto il coraggio che posso e guardandolo negli occhi dico chissà se ce la farà perché era andata a trovare la estera un amico che era all'ospedale di San Giovanni Rotondo che era molto grave e guardando negli occhi dico chissà se ce la farà chissà se si salverà egli con uno sguardo triste curva le spalle mi faccia enno col capo è un no non serve parlare ho capito finalmente mio marito ritorna vabbè non ho avuto nemmeno il coraggio di domandargli il nome purtroppo come tutte le cose belle anche questa è terminata l'uomo raccolto il suo ombrello da stampa scozzese Luigi Gaspari difatti aveva sempre un ombrello di stampa scozzese con un caloroso saluto per ciascuno di noi si congeda nel vederlo allontanarsi per un istante il gelo è sceso nel mio cuore come farò a ritrovarti quante cose avrei voluto domandarti chi sai veramente vedete finalmente torna a casa è quasi buio giungiamo finalmente a casa mio suocero desideroso di passare un po' di tempo con i suoi adorati nipotini sale appena Rodolfo si accorge di lui corre in cucina ad abbracciarlo amore incondizionato anche per me che in fondo avrei potuto essere per lui una perfetta estranea ma l'amore che lui sa dare ai suoi è talmente grande puro totale da poter fare a meno di accoglierlo di nuovo mi siedo accanto a lui e mentre parliamo del più del meno noto qualcosa di strano non convinta mi rivolgo a mio suocero per averne conferma e mi sento risponde certo che lo vedo l'occhio di Rodolfo si muove 15 giorni dopo allo studio oculistico avrebbe dovuto trattarsi di un semplice controllo mirato a stabilire la data dell'intervento mi sono sentita dire a seguito di una lunga e scrupolosa visita signora non riusciamo a capire ma l'intervento non è più necessario e così come Luigi Gaspari gli aveva detto tu guarirai e un giorno mi rivedrai e mi riconoscerai perché Giovanni lui lo vedrà nei panni proprio di Giovanni che ha scritto il libricino descritto nel decimo capitolo dell'Apocalisse questo bambino dopo qualche ora dopo qualche non so forse uno o due giorni è completamente guarito da un problema ad un occhio che doveva subire un intervento e anche la miopia se n'era andata ora spiegatemi voi se quest'uomo Luigi Gaspari non è un grandissimo santo che non è Giovanni come fa quattro anni dopo che è morto a tornare sulla terra a farsi vedere perché attenzione poi la Esther Maddaloni che non sapeva neanche il nome di quest'uomo ha trovato il quaderno dell'amore in casa e ha telefonato a Bologna e nel quaderno dell'amore c'erano le foto di Luigi Gaspari quindi lei ha riconosciuto quell'uomo dalle foto del quaderno dell'amore di Luigi Gaspari ma a Bologna gli hanno detto io la farei parlare volentieri col dottor Gaspari ma il dottor Gaspari è morto da quattro anni il 18 novembre 1995 spiegatemi voi che conoscete tutto spiegatemi come fa un uomo se non è un santo se non è un grandissimo santo a tornare sulla terra quattro anni dopo ma perché non è mai andato via perché Giovanni lo spirito di Giovanni rimane sulla terra per il ritorno del Signore per instaurare la nuova era dell'amore che è l'era di Giovanni finisce l'era di Pietro inizia l'era di Giovanni che il Signore ci benedica e ci protegga nel nome del Padre e del Spirito Santo un abbraccio a tutti quanti a presto